Continuano ad aumentare i positivi nel Cilento e di questa mattina la notizia di un primo caso dal Covid-19 nel comune di Trentinara a comunicarlo il sindaco Rosario Carione. L'Asla mi ha da poco avvisato di un caso di positività al Covid-19 nel nostro comune, scrive il sindaco in una nota stampa sulla sua pagina Facebook. Si sta ricostruendo la catena dei contatti e si procederà a fare i dovuti tamponi. Vi invito a rispettare le regole, conclude Carione.